...e stiamo lottando con altrettanta forza, con tanta determinazione. Ancora oggi sono costretta a dire che non ci sono le risposte, sono costretta a dire che è solamente un passo, però è un bel passo, fa tutti insieme. Perché questo passo è stato fatto grazie all'unione che si è maturato in un posto di lavoro, perché il posto di lavoro con i pazienti, il posto di lavoro con i boncari, non sono solamente 400 e passa stipendi, non sono 450 persone che si vede stasera, che hanno fatto rete fra di loro, che si sono conosciute. Sono 450 persone che grazie al lavoro duro del paziente hanno fatto famiglia, hanno cresciuto i loro figli. Noi possiamo dire che ci siamo, che siamo qualcosa, che siamo una comunità, lo vogliamo dire, lo diciamo qui in questa piazza, non a caso lo abbiamo fatto nel centro di rigorno, perché lo vogliamo dire a tutta la città.